Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la rassegna stampa di Buongiorno Friuli, un po' in ritardo rispetto al solito per un problema tecnico di cui vi chiediamo scusa, rassegna stampa particolare quest'oggi perché ovviamente sarà focalizzata sulla situazione del maltempo che sta affrontando la nostra regione, una situazione di difficoltà che ha messo soprattutto in ginocchio la parte montana, quindi la Carnia e non solo perché ci sono state ancora piogge durante questa notte su un territorio già vessato dal maltempo degli ultimi due giorni, vi abbiamo dato gli aggiornamenti nelle scorse edizioni dei nostri spazi informativi e adesso ve ne daremo altri. La situazione è ancora difficile, nella notte ad esempio a Sappada ci sono state delle case scoperchiate, l'evento molto forte ha creato dei disagi nella cittadina che da ieri, lo ricordiamo, è isolata perché la strada 355 della Valdegano non è percorribile ed è anche senza la copertura di rete cellulare, funzionano solo i telefoni fissi, quindi una notte davvero da incubo per i Sappadini, case scoperchiate, frane sulle strade, tanti disagi perché le strade della nostra montagna si sono trasformate in veri e propri torrenti, una difficoltà che riguarda non solo quel comune ma anche tutti quelli della Carnia, da Sutrio a Dovaro a Villa Santina, a tanti altri comuni, Verzegnis, tante situazioni in montagna, il tagliamento continua ad ingrossarsi, durante la notte a Venzone si sono quasi sfiorati i 4 metri e l'idrometro di Venzone è tenuto in costante monitoraggio da Latisana, proprio perché quest'oggi a ora di pranzo è prevista la nuova piena. Siamo al telefono con il sindaco di Latisana, Daniele Galizio, che saluto a qui do il buongiorno e gli chiedo subito, avete deciso di non evacuare per il momento? Buongiorno, sì, abbiamo ritenuto di non lanciare l'allarme di evacuazione, anche se ci siamo andati vicini, in questo momento il fiume sta crescendo, comoda partizione, crescerà probabilmente fino alle ore 13-14, ovviamente sono costantemente monitorati gli argini, soprattutto a valle e a monte di Latisana, però diciamo che la situazione in teoria non dovrebbe creare particolari problemi, ovviamente ci sarà un monitoraggio costante e continuo di tutte le spombe arginali. Ecco, durante la notte a Venzone si sono sfiorati i 4 metri con l'idrometro, vediamo l'andamento proprio delle misurazioni, perché sul sito della protezione civile si può monitorare il livello dei fiumi e lo vediamo dall'idrometro di Venzone, il livello del tagliamento si è alzato, ha toccato il picco verso mezzanotte e mezza, quindi è questa la piena che arriverà a ora di pranzo a Latisana, sindaco. Esattamente, diciamo che è ispirato il livello che poi provvede l'attivazione delle procedure per l'evacuazione, abbiamo ritenuto di concerto con la sala operativa regionale di non lanciare l'allarme di evacuazione, anche perché diciamo che su quel valore di 4 eventi c'è un margine di sicurezza ulteriore, quindi diciamo c'è stato un sforamento di pochi centimetri rispetto a quel valore che appunto ci ha permesso di non lanciare l'allarme e quindi l'evacuazione. È ovvio che però soprattutto i tratti arginali più deboli verranno monitorati costantemente. Inoltre è stata attivata la procedura per l'eventuale sollevamento del ponte ferroviario e poi appunto durante queste ore capiremo se ci sarà necessità o meno di sollevare il ponte stesso. Probabilmente no, ma insomma le squadre sono pronte per farlo. La vostra aspettativa riguardo alla profondità, all'altezza del fiume nel momento della piena, quale dovrebbe essere, Sindaco? In teoria dovrebbe arrivare intorno agli 8 mezzi e superarli di un po'. Al momento i dati che appunto stiamo misurando sono in linea con quello che ci aspettiamo. In caso di un'altezza di 8 metri o di 8,5 metri non avremo problemi, però è chiaro che ci siamo in monitoraggio costante. Perfetto, grazie e una buona giornata e buon lavoro al Sindaco di La Tisana che insieme alla Protezione Civile sta ovviamente monitorando la situazione da ieri. È stato anche intervistato, intercettato dalla nostra Luciana Edelfonso che oggi tornerà a La Tisana perché all'interno della nostra mattinata apriremo delle finestre informative riguardo alla situazione maltempo in regione e quindi avremo modo di tornare a La Tisana per raccontarvi quello che succederà nel momento in cui proprio dovrebbe verificarsi la piena. Le misurazioni delle ultime 24 ore le stavamo vedendo prima riguardo al tagliamento proprio a La Tisana. Ma lo vedete in serata ci sono stati praticamente alle 19 e 30 il picco più basso verso le ore 20 e poi invece alle 6 e 30 il fiume è continuato a risalire, la profondità si è alzata. Come diceva il sindaco, verso l'una dovrebbe esserci la piena del tagliamento, non dovrebbe superare gli 8 metri. Situazione difficile anche in montagna, fra poco avremo modo di collegarci con David Zanirato che anche lui è pronto per un'altra giornata di passione dopo aver percorso le nostre vallate in lungo e largo ieri per raccontare quello che stava succedendo ieri, una giornata di vero disagio per tutta la nostra montagna e anche lui ha sofferto in prima persona dei disagi che si sono verificati, strade interrotte, pioggia incessante, torrenti in piena, ponti che rischiano di crollare come quello di Ovaro, diverse difficoltà in montagna. Intanto stiamo vedendo sempre l'idrometro di Benzone, in questo frangente lo vedete verso la notte, intorno a mezzanotte e mezza, intorno a luna e mezza c'è stato il picco dei valori. Come diceva il sindaco di Latisana, non dovrebbero esserci grossi problemi perché c'è un range comunque di tolleranza rispetto a quella che è la cifra, il valore della profondità, del livello del fiume che consente di pensare alla piena di quest'oggi come una cosa che comunque Latisana riuscirà a sostenere. Dicevamo in montagna grandi difficoltà, una difficoltà che ha riguardato sia la viabilità sia le cittadine e i paesi, tante evacuazioni, disagi, allagamenti, frane, quindi una situazione davvero complicata. Allora buongiorno a Davide Zanirato, com'è l'ultimo bollettino Davide? Buongiorno Valentina, buongiorno ai nostri telespettatori. Da Tolmezzo continua a piovere dopo una notte ancora ricca di folate di vento, precipitazioni abbondanti, allagamenti e la situazione che questa mattina si inizia già a fare la prima conta dei danni. Partiamo dall'evento più critico accaduto ieri sera, ha ceduto una parte del ponte lungo la strada regionale 355 tra Comelian si è rigolato, quindi di fatto anche l'Alta Valdegano è isolata con il ponte che è stato chiuso al traffico e sul posto protezione civile, tecnici di FVG strade e vigili del fuoco. E poi ancora diverse le chiusure che si registrano con tanti alberi, massi, detriti caduti sui fondi stradali. Per esempio è chiusa la strada tra Ravascletto e Cercivento per uno smottamento in località Zovello. È isolata anche la frazione di Timau di Paluzza per un cedimento della strada tra Cleulis e Timau. Ci sono ancora diverse chiusure che permangono da ieri lungo l'Alta Valdegano e poi anche a Sauris. È chiuso ancora il passo di Monte Croce Carnico. Quindi davvero un bollettino che si allunga di ora in ora e vedremo stamattina dunque se ci sarà una nuova tregua del maltempo. La speranza è questa da parte di tutti i primi cittadini e delle varie forze dell'ordine impegnate sul campo. Come ricordavate voi, poi c'era il dato di Venzone da tenere sotto controllo. L'idrometro che ha ottenuto il picco nella notte di 4.27 a mezzanotte e mezza attualmente è sceso a 3.30. Questo per il momento il quadro che ci arriva proprio dalla montagna Fulana. Tra l'altro grossi problemi si sono riscontrati pure a Sappada dove sono stati scoperchiati i tetti di diverse abitazioni e ancora smottamenti nella viabilità locale. Per il momento è tutto. Naturalmente noi saremo sempre qui presenti sul territorio per continuare ad aggiornarvi sulla situazione. Se non ci sono domande Valentina, te la linea. Grazie, grazie David per questo aggiornamento che arrivava dalla montagna Friulana, vessata in questi due giorni dal maltempo, dalle forti piogge. Poi oggi in giornata continueremo a darvi informazioni in merito. Conclusa la parte di aggiornamenti dell'ultima ora su quella che è la situazione in regione, andiamo a vedere i giornali locali che raccontano quello che invece è accaduto ieri. Vediamo il gazzettino con l'apertura dedicata alla montagna. In ginocchio la forte perturbazione ha flagellato gran parte delle Friuli. Necarnia, Ovaro, il centro più colpito, Sappada, Isolata, il tagliamento ha superato la soglia di allerta e continua a fare paura mettendo a rischio 10.000 persone. Per adesso, come abbiamo sentito, non è prevista l'evacuazione di Latisana perché l'idrometro di Venzone questa notte ha registrato un dato che comunque lascia la protezione civile in fase abbastanza tranquilla rispetto a quella che potrebbe essere l'ondata di piena che arriverà verso l'una nella cittadina. E poi ancora si attende appunto la seconda ondata di piede alla tisana ma nella bassa ci sono stati allagamenti in centro a Grado e Lignano. Vediamo l'apertura anche del gazzettino. L'intera carne è in ginocchio, esondazioni frane e blackout. La Valdegano ieri ha ricevuto il colpo di grazia. Abbiamo sentito anche da David Zanirato tutta l'alta Valdegano adesso è isolata perché è crollato anche un ponte a Comellians. Poi stasera, oggi è aggiornata una prima stima precisa dei danni e stoppa i lavori intanto sul nuovo ponte dell'A4 che per la messa in sicurezza i lavori sono stati sospesi proprio per consentire la messa in sicurezza del cantiere. E qui vediamo il messaggero Veneto che ricorda la grande paura sul tagliamento come nel 66. Il tagliamento fa paura alla tisana, è impressionante, ma secondo le stime del sindaco Galizio non dovrebbe superare gli 8 metri nell'ondata di Piena, ma il bollettino di guerra arriva da tutta la regione. Nelle Pordenonese ci sono preoccupazioni per il Noncello e il Meduna, danni anche per le forti raffiche di vento scoperchiati, il municipio Aerto e le elementari a Claut, decine di chiamate di soccorso, scuole chiuse in mezza regione perché sono state chiuse con ordine delle prefetture. Tutte le scuole nella Pordenonese, nella Carnia, nella nostra montagna e anche in comuni vicini come Nimis, Faedis, Tarcento, quindi davvero l'allarme ha riguardato larga parte della nostra regione. E qui vediamo sempre il messaggero con le immagini del 1966 e di ieri, l'apertura è dedicata alla Carnia, una valanga d'acqua, la strada spazzata via dalla Piena, decine di chiamate, di soccorso, frane e alberi abbattuti, fabbricati, scoperchiati, scuole chiuse nelle aree a rischio. E qui vediamo proprio lo scatto delle ponte a Dovaro, anche noi ieri vi abbiamo mostrato le immagini, il nostro David Zanirato era lì a monitorare la situazione. Apriamo, sfogliamo insieme il giornale, per il resoconto della terribile giornata di ieri, ci sono stati delle evacuazioni ad Aplis di Ovaro, ad esempio, strade interrotte, paesi al buio, edifici scoperchiati, tra le aree devastate si fa una prima stima dei danni, ma non è semplice. E poi sentiremo dall'Osmer, come mai questa ondata di maltempo, un evento eccezionale, un mix micidiale di scirocco e bassa pressione, anche durante la notte a Udine, in città, ha piovuto incessantemente, ma non ci sono stati grossi problemi, mentre invece il vento forte ha creato grandi disagi in montagna. La frana inghiotta la strada del ponte, poi anche un altro crollo a Comellians grave, la situazione a Dovaro forniava oltre isolato e senza luce, problemi anche per blackout a Paolaro, ieri, sempre nella nostra montagna e poi anche a Sutro, al lavoro 100 pompieri per oltre 160 interventi. Lo vedete, questi sono alcuni scatti che riporta il messaggero Veneto riguardo ai disagi che si sono patiti ieri. E poi, durante la notte, l'altra notte, durante la bufera, un 56enne di Cervignano ha perso la vita in un incidente, che stava tornando a casa dopo il turno di lavoro, investito dalle forti raffiche di vento, ha perso il controllo, ha sbandato fuori dalla galleria di Donia, si è schiantato e per lui non c'è stato niente da fare. Qui vediamo ancora il resoconto di quello che è successo ieri, strade deserte, bar chiusi, dato il mezzo è regolato, tutti chiusi in casa, anche per rispettare le ordinanze dei sindaci, che invitavano la cittadinanza a non spostarsi, a non uscire di casa, se non è strettamente necessario, soprattutto per le persone anziane. Ovaro è l'epicentro della Carnia Ferita, e le ponte di San Martino è a rischio crollo, l'abbiamo visto, comunque la strada è interrotta. E anche a Udine c'è stato qualche problema, a Palazzo d'Aronco, proprio durante la seduta del Consiglio Comunale, è caduto un pezzo di cornicione che sovrasta la loggia del Lionello, si è staccato ieri pomeriggio e è caduto in via Mercato Vecchio, fortunatamente non ha colpito nessuno. E qui vediamo ancora le immagini del tagliamento, anche se ve le abbiamo mostrate con le immagini che abbiamo registrato ieri alla Tisana, insieme alla nostra Luciana Idelfonso, ma anche l'acqua alta a Grado, il porto, questo è il porto interno di Grado, qui è Marano Lagunare con l'acqua che è arrivata praticamente a livello della strada. Qui vediamo i pontili di Pineta e di Sabbiadoro con problemi per le raffiche di forte vento anche alle strutture. Qui proprio il sindaco Galizio che monitora la situazione del tagliamento ieri pomeriggio. Strade chiuse, paratie agli ingressi, notte con i fiumi sorvegliati speciali anche nelle Pordenonese, non si contano i guadi che sono stati chiusi, i sottopassi che sono rimasti allagati, qui alcuni scatti degli allagamenti e degli incidenti che si sono verificati nel Pordenonese, ovviamente fa paura la piena del noncello. Per il momento a Livenza, Sacile, sotto controllo, a Meduna invece, a Prata, le Idrovore, pronte a entrare in azione per il Meduna. Difficoltà come spesso capita in Valcellina, completamente isolata per l'interruzione a Barcis, qui vediamo scoperchiati il municipio e la scuola, la Valcellina spesso martoriata per il maltempo, adesso manca anche la corrente, sindaci e volontari al lavoro, alla luce di torce e cellulari. E poi ancora vediamo altri resoconti della provincia per capire qual è la situazione, a Cordenonese e Fontana Fredda, ancora scuole chiuse, stop a tutte le scuole e le lezioni in tutta la provincia, i volontari sono all'opera, non hanno sosta fra giorno e notte, sono quasi 400 le persone impegnate a monitorare le varie unità di crisi della Regione con la situazione che viene costantemente coordinata da Palmanova. Per il momento ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo con la nostra rassegna stampa, con le ultime notizie, anche il collegamento telefonico con l'Osmer per sapere quale sarà la previsione del meteo per quest'oggi. A fra poco.